è proprio qui che comincia la storia che voglio raccontarvi non ho memoria di me senza bicicletta a sei anni mi è stata data la prima bici da corsa a 12 cominciai a capire che prima di una competizione probabilmente non bisognava mangiare porcherie e si doveva riposare a 18 anni pronto a debuttare tra gli elettanti durante un test incrementale all'inizio stagione il medico sportivo mi chiese se non ci fosse qualche altro sport che potesse piacermi tipo il basket dato che in bici a per il suo avrei potuto fare poco a 22 anni durante un'importante gara di metà stagione su una salita di media lunghezza comunque a metà gara perdendo contatto dal gruppo una macchina ammiraglia mi si affianca e un direttore sportivo mi dice che forse era ora di andare a lavorare insomma di appendere la bici al modo e insomma per per quello che si era visto aveva ragione cazzo pochi mesi dopo finita la stagione mi adoperai per aprire la mia partita iva e cominciai a lavorare come bianchino con mio padre a 24 anni sempre in quella importante gara di metà stagione dopo diverse salite e soprattutto dopo un'estenuante settimana di lavoro giunsi all'arrivo appena dopo i primi la fine gara feci notare a quel direttore sportivo che nessuno dei suoi corridori è riuscito ad arrivarmi davanti e che forse era il caso che anche lui si cercasse in un altro lavoro così è per per puntualizzare ma manfre matto ne vedi veramente pochi così si sveglia all'alba va a lavorare torna pomeriggio in trattato è ancora la forza di uscire in bici di cambiarsi di uscire in bici non c'è veramente pioggia freddo buio che tenga per lui e facendo una stima veloce da quando vado in bicicletta auto circa 200 compagni di squadra ho visto ragazzi molto più forti di me mollare per motivi o scuse più o meno discutibili io invece lunedì dopo le batoste domenicali magari stavo in sella cinque o sei ore con la rabbia chiedendomi il perché non fossi nemmeno in grado di finire una gara in poche ore quella delusione si trasformava però in voglia di fare devo dire la verità questo negli anni ha fatto una grandissima differenza nella vita in generale ho imparato a concentrarmi su sulle soluzioni piuttosto che che sui problemi e lui ci siamo conosciuti qualche anno fa quando ero campione italiano elite e mi ha visto vincere qualche gara una sera eravamo al ristorante con degli amici e lui mi si avvicina e mi chiede se potevo dargli qualche consiglio per la stagione all'inizio pensavo scherzasse invece era veramente serio ho capito subito quanto fosse sul pezzo non si lamenta mai e ha una soluzione per per ogni cosa e veramente sono rare le volte che dice di essere stanco a volte devo ricordarli di di mollare un attimo perché oltre ad andare in bici lavora a settembre 2020 ha di nuovo rotto la clavicola in una gara peraltro in periodo dove aveva una buona condizione e poteva raccogliere qualche buon risultato sinceramente un po come tutti ho pensato che questo episodio lo avrebbe fatto smettere una battossa del genere di nuovo farebbe smettere chiunque l'ho chiamato dopo l'operazione era ancora all'ospedale e mi fa pacchia questo inverno tempo di riprendermi faccio l'everesting everesting è una prova che consiste nel ripetere una salita più volte per raggiungere il dislivello totale di 8.848 metri è una prova in realtà più mentale che fisica perché diciamo che noi atleti sia direttanti che professionisti siamo abituati ad arrivare a fare allenamenti di sé a volte anche sette ore in cui fai quattro o cinque mila metri di dislivello però dopo i 5.000 entri veramente in un aspetto in una zona che non è più di comfort ma è proprio di lotta contro se stessi per la sopravvivenza e da ogni metro vale doppio triplo quadruplo e quando mi ha detto Manfred ok voglio fare l'everesting ho detto sì ci sta è una bella una bella sfida contro se stessi ma in realtà ho anche pensato e gli ho anche consigliato scegli magari una salita non troppo dura insomma pedalabile che se per caso arrivi a 6 7 mila metri che sei un po impiccato tiri su un dente con un bel rapportino un 39 30 tri 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 che i tuoi dieci all'ora li fai sempre poi niente quel giorno famoso dell'everesting sono arrivato lì ho visto i primi due tre chilometri del cornizzolo e ho detto madonna che salita che ha scelto ho visto la rampa del garage dei primi chilometri ho detto se ce la fa tanta roba allora per per gli amanti dei numeri aprite bene le orecchie monte cornizzolo 7 chilometri con una pendenza media che supera il 10 per cento le punte sono tra il 15 e il 16 insomma sembrava perfetta 13 è il numero di volte che avrei dovuto percorrerla chiaramente parlandone con con gli amici e le persone a me vicino ma se c'è sulla neve cosa fai e se quella mattina ti svegli e nevica piove c'è vento e infatti ancora una volta la vita era pronta a prendermi a calci nel culo durante la prima scesa arrivati a tre chilometri dalla cima la pioggia è diventata neve e attaccava maledettamente bene sull'asfalto avevo in mente di archiviare la cosa in 11 massimo 12 ore chiaramente sono quei calcoli che fai a casa sul divano poi poi tutto viene stravolto per colpa della neve abbiamo perso circa tre ore ma mollare o modificare il percorso era chiaramente fuori discussione salire era difficile però in qualche modo fattibile bastava praticamente non alzarsi sui pedali scendere invece era impossibile avrò rischiato almeno 50 volte di far partire l'anteriore del freddo invece non ne voglio nemmeno parlare il mio cervello per un qualche sistema di protezione deve aver dimenticato quelle sensazioni di solito non mi faccio grossi problemi con le temperature devo dire la verità pensavo di essere abituato invece quel giorno sofferto il gelo come mai come mai in tutta la mia vita fottutamente terribile e dopo dopo cinque ore circa dovevo scegliere se continuare o dare forfè la neve chiaramente non aveva nessuna intenzione di sciogliersi io ero congelato e in queste condizioni anche volendo forse avrei finito la notte successiva penso però che come al solito la fortuna arrivi a chi è pronto a riceverla quel timido sole infatti verso le 11 del mattino ha incominciato a sciogliere quei tre chilometri maledetti provate a pensare se avessi mollato e poi pomeriggio si fossero presentati quei 12 gradi con sole pieno non voglio nemmeno pensarci dovevo continuamente ricordarli di mangiare di bere ogni tre o quattro tornanti mi fermavo per dargli qualcosa da mangiare o anche solo un supporto morale avrà mangiato una quarantina di kinder la macchina sembrava veramente una discarica avrà impiegato mesi a ripulirla oltre a quelli alla testa c'ho problemi alla schiera adesso in una prova così già dalle prime ore devi comunque cercare di salvaguardare un po il glicogeno muscolare che hai cominciato a stuccare già dai giorni prima mangiando più carboidrati anche se tu hai mangiato bene arrivi un certo punto che il glicogeno finisce e nelle prime ore devi già cominciare a attuare una strategia mirata dove magari parti e sai di mangiare 30 40 50 grammi di carbo ogni ora e poi devi arrivare però dalla quinta a sesta ora a mangiarne anche 70 80 insomma devi alzare molto l'utilizzo dei carboidrati di proprio mangiare tanto perché lì errori zero e poi penso che comunque per concludere è un'impresa che prende ancora più senso fatta da una persona che lavora per riuscire però a prepararsi quel giorno lì dire ok oggi faccio l'impresa o lì gioco tutto davvero tanta roba difficilmente ci si scorda di una cosa del genere un'esperienza che ti tocca nel profondo e penso che possa farli bene oltre che nella vita in generale anche per il suo ultimo anno d'agonista ora ora va molto di moda soprattutto sui social parlare di resilienza resilienza andate a cagare personalmente preferisco pensare a quei materiali estremamente duri che resistono ad abrasioni forti urti o a sollecitazioni nella vita ogni piano quei piani che generalmente si fanno sulla propria scrivania spesso vengono stravolti da qualche imprevisto in quel caso solo la giusta attitudine farà la differenza tra un fallimento e un successo il gioco sta tutto nel saper resistere ai colpi e una cosa fino ad ora l'ho imparata bene duri sul divano non si diventa non si diventa non si diventa